La seconda serie di grandi classici Disney arriva alla numero 100. Per l'occasione Panini Comics ha anche proposto una variant cover di Andrea Fragello che però non ho preso, vedremo più avanti, in fumetteria. La testata, in effetti, se contiamo anche i 350 numeri della prima serie, ha effettivamente raggiunto le 450 uscite. Aveva iniziato le sue pubblicazioni nel lontano 1980 e poi, a partire dal 2004, quando venne affidata a Luca Boschi, venne aggiunta a sommario una storia particolare che poi, numero dopo numero, divenne un'intera sezione, la sezione delle Oggi Notte Storie Superstar. E, nell'occasione di questo centesimo numero, Pierluigi Gaspa, che oggi gestisce la testata dopo la prematura scomparsa di Boschi, ha deciso di regalarci quattro storie uscite su altrettanti numeri significativi di Topolino. I numeri 200, 800, 1200 e 1300, diventando così questa sezione una specie di celebrazione dei 75 anni di Topolino. Inoltre, il numero 100 dei grandi classici, quello attualmente in edicola, presenta anche una serie di articoli di approfondimento che diventeranno, a quanto annunciato da Gaspa nell'editoriale di introduzione, una prassi per i numeri successivi a partire dal 101. Quindi, in un certo senso, dopo il rinnovo del passaggio tra il 350 e il nuovo numero 1, questo numero 100 è un nuovo punto di arrivo, ma anche un nuovo punto di rivoluzione per la testata. Sperando che questo sfogliatopo particolare sia stato di vostro gradimento, mi resta di evitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video. Cliccati al prossimo sfogliatopo! Cliccati al prossimo sfogliatopo!